Il mare purtroppo non nasconde solo le meraviglie della natura e le immagini acquisite con il ROV documentano anche alcuni degli effetti delle attività umane, come la presenza di rifiuti in grado di alterare o danneggiare gli ecosistemi. I rifiuti marini sono abbondanti purtroppo nella maggior parte dei siti che noi riusciamo ad esplorare. In particolare a mare però esiste il problema di quelle che sono le reti fantasma, le ghost net, ovvero attrezzi da pesca che sono stati abbandonati o persi che possono facilmente impigliare organismi marini oppure se sono ancora nella loro posizione operativa continuare a pescare. Senza che però nessuna preda venga poi di fatto catturata.